Ospite della radio TMV, Xavier Jacobelli ha commentato il mercato di gennaio della Lazio nei seguenti termini. La situazione più delicata di ieri riguardava l'operazione Kent Lazio, che è fallita all'ultimo minuto e ha lasciato un cattivo sapore in bocca ai tifosi dei biancocelesti dopo un mercato caratterizzato dall'inazione. Una scelta sorprendente considerando che si tratta della squadra che si è classificata al secondo posto l'anno scorso, protagonista degli ottavi di finale della Champions League e attualmente in lotta per il quarto posto. Credo che i tifosi della Lazio avrebbero preferito vedere una tendenza diversa. Questa squadra ha cercato un esterno offensivo aggiuntivo, anche se, a mio parere, avrebbe avuto bisogno soprattutto di un rinforzo in difesa e forse anche di un attaccante aggiuntivo, date le difficoltà di Immobile. Molti hanno detto no alle proposte degli ultimi giorni, penso che in questo momento Sarri dovrà necessariamente adattarsi alle scelte del club.